Le cuffie Silent System SX553 a 5 canali fondono perfettamente eleganza, comfort e qualità audio superiore. Sono dotate di comandi facili ed essenziali che riassumiamo per te in questo video tutorial. Utilizza il bottone nella parte posteriore del padiglione destro per accendere e spegnere il dispositivo. Con lo stesso bottone potrai selezionare i 5 diversi canali di ricezione e ascolto, indicati dalle diverse luci LED dei padiglioni. Regola autonomamente il volume tramite la leva del potenziometro per un ascolto personalizzato e piacevole. Premendo la stessa leva è possibile spegnere le luci LED dei padiglioni. Utilizza l'ingresso mini jack posto sul padiglione sinistro per una connessione diretta via cavo. Le cuffie SX553 sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, inclusi concerti e studi di registrazione, conferenze e congressi, festival e discoteche, cinema e teatri. Le cuffie SX553 Grazie. Grazie.